Sono ormai 18 anni che a Capodimonte in provincia di Viterbo nelle festività natalizie si crea il presepe subacqueo, un fantastico gioco di luci sotto le acque dello splendido lago di Bolsena ma quest'anno al presepe si è aggiunto un primato, l'installazione della stella cometa fortemente voluta dal sindaco di Capodimonte Mauro Fanelli, un percorso subacqueo di giochi di luci fino ad arrivare alle tre statue che rappresentano la natività. Tutte immerse sotto le acque del lago che affiancano le mura del paese, nella serata di ieri è stata accesa la stella cometa sotto gli occhi di grandi e piccoli che ha illuminato il presepe stesso, un'iniziativa per valorizzare il centro storico e far conoscere ai turisti le tradizioni di Capodimonte afferma il primo cittadino. Sindaco l'ha voluta proprio questa stella? Sì guardi non solo io ma l'ha voluta tutta l'amministrazione che è con me e tutta la cittadinanza perché abbiamo creduto in questo presepe e ci crediamo, è l'unico sicuramente con questa stella sommersa che sappiamo noi che esiste qui in Italia. L'anno scorso appena vinta l'elezione con l'amico Pizzichetti di cui fu promotore lui di questa iniziativa abbiamo restaurato il presepe, tirate fuori le statue e abbiamo puntato e punteremo veramente a valorizzare Capodimonte e il suo centro storico. A creare questo capolavoro immerso nell'acqua sono state le scuole sub di Viterbo e tutte le associazioni amici del presepe subacqueo, una volontà di persone che in pochi giorni hanno dato luce nelle acque del lago di Bolsena. C'è molto sentimento anche perché dato il fatto che ci sono delle statue che rappresentano Giuseppe, Maria e il bambinello quindi siamo in tema natalizio per chi è devoto comunque la sente questa cosa. La serata di ieri è terminata con la classica cena di carne alla brace e castagna arrosto tutti davanti al presepe subacqueo.